Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti e code per traffico verso nord tra Valdarno e Firenze Sud e tra Calenzano e Aglio. In A11, coda per traffico in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. E arriviamo in Fipili dove troviamo rallentamenti per traffico verso Firenze tra Bivio Sgc Fipili di Ramazione Pisa e Ponte d'Era Ovest. In carreggiata opposta tra Cascina e Bivio di Ramazione Pisa Sgc Fipili. Siamo al traffico ferroviario per danni dovuti al maltempo. La circolazione dei treni sulla linea Firenze-Faenza sarà sospesa domani 23 settembre tra Marradi e Faenza. Sono previste corse con bus da Marradi a Popolano di Marradi e da Faenza a Focognano con fermata intermedia Brisighella. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città meroportana di Firenze e comune di Firenze. Per oggi è tutto, i nostri aggiornamenti tornano domattina alle 7.30. Per oggi è tutto, i nostri aggiornamenti tornano domattina alle 7.30.